Bello ragazzi e benvenuti in questo video, sono Sparks Oggi mi trovo in un posto diverso, diverso dal solito Infatti sono tipo in una cassetta di legno Con i vecchi accessori Infatti la telecamera sarà, la webcam sarà tipo una qualità diversa Il microfono sarà qualità diversa Insomma potrebbero esserci anche problemi di montaggio Di cose, però vabbè, non sono in questo momento in caso Quindi registrerò da qui Questo è il nuovo posto, non è casa mia ovviamente Anche quando lo Sparks sono in vacanza deve registrare per i suoi iscritti Quindi vediamo un po' cosa fare oggi Perché dobbiamo tryhardare ancora su Brawl Stars Perché abbiamo tantissima roba da completare Dobbiamo fare i token di oggi Dobbiamo aprire nuove mega casse Abbiamo altre due mega casse da aprire Sono tornate le altre casse Ma comunque secondo me conviene più aprire queste che le altre Ma sono nel mio account Qualcuno del dubbio, sì, sono nel mio account Ma non erano finite, l'hanno rimesse Hanno rimesso 20 mega casse Aspetta, fermi tutti 20 mega casse a 4,99 Quindi devo fare un calcolo matematico Fermi tutti Codice Sparks mi raccomando Qui in fondo per supportarmi Dobbiamo fare dei calcoli Perché potrebbero convenire queste 20 mega casse E facciamo un mega box opening Anzi, dato che domani è il mio compleanno È il 21 luglio Facciamo questo mega box opening nel mio compleanno Vediamo se porterà fortuna E ovviamente se volete passare un po' domani nei commenti Farmi gli auguri Io vi aspetto 499 diviso 20 Sono 24 gemme a cassa Per 2 sono 49 gemme Quindi conviene tantissimo Super mega convenienza E per il mio compleanno sicuro l'hanno fatto Ce lo riserviamo per domani E mi raccomando di vedere almeno 500 like sotto questo video Per il mio compleanno almeno Mi raccomando spaccare i like Allora, oggi abbiamo Mischia dello specchio E abbiamo Rico come personaggio Dove siamo tutti uguali Ed è ricercati Tanta roba Andiamo No, ma tutti con le skin Ai per stanno nel mio team Raga, no Tranne uno Siamo io con le gemme C'è uno con le gemme Io con le gemme di Raffa gemme E poi c'è Rico normale Insomma, qua Se scioppa, se scioppa Spero che c'è Sparks, raga Supportate lo Sparks Sento che è piccolo Ha bisogno di crescere Ah, deve stare No, 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 no Vai, vai, vai Uh, la kill Arriva, arriva, arriva la kill Possiamo avanzare Eccolo dove è sto Ferentino qua E mo' gli spammo qualcosa No, non gli spammo niente Perché andiamo dall'altro lato Possiamo spammare una bella ulti qua Vai così Uh, uh Sparks, walk, orrico Gai più nessuno, no? Che vuole fare una brutta fine Tu, 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 vai, vai, vai Rimbalza, go, go Rimbalza, go, go No Oh, l'abbiamo vinta stavo L'abbiamo vinta, raga 22 a 13 Mi sa che due kill L'ho fatta io Ma ha workato di più DR11 Con ben 6 kill Diciamo che l'altro Non ha fatto nulla E c'è il pollice in su Ah, lo star droppino Star droppino del giornalello schifoso E poi niente Abbiamo preso il token Adesso andiamo nella modalità Che più mi farò sicare Avanti il prossimo Vediamo che riusciamo a fare oggi Adesso riusciamo a vincerlo Tra l'altro è uscito anche l'evento della bandita Su squadbusters Quindi ovviamente lo andremo a provare Per vedere un po' com'è E fare una bella reaction Ok, si inizia con Rico Quindi possiamo sflexare il nostro Rico Work Questo sta in FK Quindi lo possiamo distruggere Sì Preso la Spax Head Abbiamo entrambi Bo Io quasi punto il Godzilla Ah no, è uno che posso killare lì Vai Tu Buona Maddonna sono uno sciacolo di kill Uno sciacolo di kill Guardalo Me l'hai rubata Mi hanno rubato una kill Però aspetta che forse Mi posso killare Questo Bo Buona Abbiamo colto Abbiamo colto Ancora Godzilla Ancora Godzilla Eh ma tutti contro gli Spax No ragazzi In tre erano Erano in tre Sono secondo Devo cercare di rimontare il primo Ci riuscirà o non ci riusciano Spax Head Per fortuna abbiamo gli spawn Qui avvicini Così non importa No L'abbiamo persa Dobbiamo fare un'altra Sarà questa la partita giusta? Speriamo Speriamo perché qua Quella morte è veramente Tu push Ma ti rubano le kill È tipo Ah finalmente Ecco qua vai Quella è mia pure Scusa Al me sia morto Vai Piper al centro Non ci vado Ma andò stanno tutti nascosti? No 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 Sì 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 Vai vai Buona la kill E lo Spax Head Oh sono primo Sono primo Ragazzi sono primo Per ora Per ora Ora abbiamo Colt In teoria Possiamo provare a pushare un po' Qua al centro con Colt Ma hanno rubato la kill Per l'esea volta Vai Me c'è fiondo Me c'è fiondo Sì? Ottimo C'è abbiamo Frank Quello più difficile Forse da Da pushare Se facciamo un po' No No Lo stunnato Gli ho regalato La easy kill Eh ma è difficilissima Ma è difficilissima con Frank Forza mila con me Non sono felice Perché sono milanista Quindi dobbiamo distruggere Sto amico Andato amico Allora io partirei da questo lato qua Ok sì sì Bisogna bere Fai figo Lancia l'acqua perfetta Ah ma c'ho due che mi curano Ehi Che cosa Aiuto Dai ma quella stava a camperà Stava a camperà Ma non ci credo E la cabola tra i cesfugli Ma sempre camperoni del cavolo siete Muove il sistema Sfax appena pia il draghetto No La segna lui 1 a 0 Dobbiamo riprenderla E per colpa del ragno che mi è venuto addosso Ci prova ci prova ci prova Mi fa pollice in su Pollice in su pure per me Vado in dinosaur mode Provo a chiudere questo E non sono riuscito a passarla Porca arriva la paletta Saremo di qua Andato Andato Dobbiamo bruciare sto beri Vai vai È nostra È nostra Corri corri Cosa fai Segna Cosa fai il trick Forza mira Che questo qua potrà segnare Oddio Scatenati 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 Mico si è scatenato contro lo Sparkshead È partito Mico Io mi curo perché potrebbe arrivare da un momento all'altro Transformiamoci Corri 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 Vai vai Non vi arrendere drago Non vi arrendere Sì Sì Lo Sparkshead la caria Con la doppietta personale 5-1 E si vola GG anche agli altri Simon Devo dire che è il miglior berri che ho visto in vita mia E adesso cosa ci serve ancora Ci serve un'altra partita che è Dominio Campo aperto Porca paletta Vabbè andiamo sempre con drago Perché ce l'abbiamo a basso E quindi dobbiamo farlo salire di livello Ah stavolta non abbiamo un LL Ma abbiamo un GX contro Beh io voglio bene tutto allo stesso modo Quindi è uguale Per me vediamo un po' Sta una partita complicata Penso di sì Entrambi trasformati Ma vi faccio comunque Zona Che mi servirà Anzi attacco Barry se posso Anzi attacco e esce se posso Attacco tutto Attacco tutto Ah Aiuto Aiuto Scuto scuto Cura 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 Madonna La potenza dello Sparkshead Raga Immortale Immortale Adesso mi curo E' vado qua al centro Brava Elisa Vai così Di nuovo scudetto Vai 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 Scuto 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 Con uno di vita Lo Sparks non molla Lo Sparks non molla La killa Cerca di resistere Si mette lo scudo Per resistere fino al livello 1 Aia Però butta giù Esce raga Anzi l'ha buttato giù Lili si è trattasportata Però gli ho fatto un po' di danni Posso ripartire adesso con Il nostro draghetto Che lo mettiamo subito Dobbiamo buttare subito giù Esce perfetto Ho fatto piazza pulita Dei topolini Buttiamoci giù Pure Barry Siamo a posto Anche lui Ce lo buttiamo giù E' il nostro numero di vita Va bene così Volevi 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 Draghetto vai E' nostro E' nostro ragazzi E' nostro Ma vi puoi curare C'è abbiamo l'unico cavallo Che non curano E' l'unicorno Che è L'unicorno Ah finalmente Bella partita GG Ragazzi Squalla Belli Si win 6-1 Migliore sparks Certo ho tragiardato con drago qua L'ho tragiardata Siamo arrivati a quel punto Siamo a ben due casse gratis Poi faremo un box opening Alla fine Ma domani Perché è il mio compleanno Vi regalerò Il box opening Di 20 mega casse Lo proveremo insieme Ora però andiamo ad aprirci Le mega casse del giorno Che non ho ancora aperto Quindi questa qui Ragazzi dobbiamo trovare Scegli la stella Porca paletta Scegli la stella A me No 7 gem Però 200 200 bling 5 skip Aia Potrebbe essere Stack a bling L'ultima volta ho detto così E' uscito davvero Ti prego stack Ti prego Cioè Tra tutte le skin Perché dammi le altre skin Che fanno schifo Ma non fanno schifo Sono belle però Voglio stack No Frank Frank preistorico Cala palettina Poi che altro abbiamo Abbiamo un altro ad aprire Abbiamo un altro ad aprire Abbiamo un altro due ad aprire Fermi tutti Non è ancora finita Abbiamo ancora altre speranze Per scegli la stella 3 skip Niente qua Qua 2 skipetti 467 bling E una gemma Giusto per farmi triggerare Grazie E per le altre Dobbiamo aspettare domani Dopodomani Raga Spero che comunque Vi divertite sempre con me Nei miei video Comunque facciamo sempre cose Insieme Ci divertiamo Cioè io gioco insieme a voi Facciamo delle quartelle insieme Ci becchiamo domani Per il mio compleanno Non mancate Spacchiamo il video di domani Con tantissimi like Per il mio compleanno Codice sparks E ci vediamo domani Per il mega box opening Di 20 megacasse Raga Da sparks E' tutto A domani Bella Ciao a tutti